Contagi in Francia, pensiamo alle parole di Angela Merkel, ecco il Presidente del Consiglio. Che abbiamo da venerdì analizzato anche con l'ausilio degli esperti del Comitato Tecnico Scientifico non ci possono lasciare indifferenti. L'analisi della curva epidemiologica segnala una rapida crescita con la conseguenza che un po' in tutti i territori della nostra penisola la diffusione del contagio e anche lo stress che ne consegue il suo sistema sanitario nazionale hanno ormai raggiunto livelli preoccupanti. L'indice RT, che come sapete segnala il numero medio di infezioni che vengono trasmessi da ogni malato ha raggiunto la soglia critica di 1,5. L'elevato numero di persone positive al Covid ieri ha sfiorato la misura di 20.000 persone. Questo rende anche sempre più difficoltose le medesime operazioni di tracciamento. Il Governo si è dato un obiettivo chiaro. Vogliamo tenere sotto controllo la curva epidemiologica. Solo in questo modo, infatti, riusciremo a gestire la pandemia senza rimanerne sopraffatti. Gestire la pandemia significa permettere al nostro sistema sanitario di offrire una risposta efficiente, garantire cure, ricoveri adeguati a tutti i cittadini. Significa anche scongiurare un secondo lockdown generalizzato, come quello che è accaduto e avvenuto in primavera. Il Paese non può più permetterselo. E significa anche tutelare la salute, ma al contempo preservare l'economia. Dobbiamo evitare, infatti, di ritrovarci nella condizione di dover scegliere tra l'una o l'altra. Dobbiamo fare il possibile per proteggere insieme la salute e l'economia. Di qui la necessità di introdurre misure più restrittive rispetto a quelle sin cui applicate. Le nuove misure entreranno in vigore questa sera, a mezzanotte, e rimarranno in vigore sino al 24 novembre. Ve le riassumo. Bar, gelaterie, pasticcerie, ristoranti chiuderanno alle ore 18. Tutti i giorni, compresi i festivi. Dopo le 18 però potranno continuare a operare per le consegne a domicilio e per l'asporto. Ai tavoli dei ristoranti potranno sedere al massimo quattro persone, salvo che si tratti di nuclei familiari più numerosi. È vietato consumare cibo, bevande, nelle piazze, nelle strade pubbliche, dopo le ore 18. Chiudono palestre, piscine, centri benessere e centri termali. Chiudono anche sale gioco, sale bingo, sale da ballo, parchi di divertimento, e ovviamente continuano a rimanere chiuse anche le discoteche. Chiudono anche teatri, cinema, sale da concerto. È una decisione questa che è risultata particolarmente difficile tra le altre. Il mondo della cultura, infatti, è in forte sofferenza ormai da mesi. Restano aperti invece i musei. Non sono consentiti più festeggiamenti conseguenti connessi a cerimonie civili e religiose. Ricorderete che per adesso c'era il limite di 30 persone. Convegni, congressi e altri eventi potranno svolgersi solo con modalità a distanza. Tutte le fiere, di qualsiasi tipo, anche internazionali, sono sospese. Sono sospese anche tutte le competizioni dello sport, tranne quelle professionistiche a livello nazionale. E per quanto riguarda l'attività sportiva di base, continuerà solo quella degli sport non da contatto e comunque al di fuori di palestre e piscine. Per le scuole secondarie di secondo grado, quindi parliamo di licei, istituti tecnici e professionali, incrementiamo la didattica a distanza, almeno nella misura del 75%. Incentiviamo ulteriormente il ricorso allo smart working e alla pubblica amministrazione e lo raccomandiamo fortemente, per quanto possibile, anche nelle aziende private. In particolare, incrementando lo smart working e anche incentivando il ricorso per le scuole superiori della didattica a distanza, confidiamo di alleggerire l'utilizzo, l'afflusso nei mezzi di trasporto pubblici. Non abbiamo introdotto un coprifuoco, è una parola che non amiamo, ma rivolgiamo una forte raccomandazione a tutti. Bisogna muoversi solo per motivi di lavoro, di salute, di studio, di necessità. E raccomandiamo anche di evitare di ricevere a casa persone che non facciano parte del nucleo familiare. Questo è un momento complesso. Nel Paese c'è anche molta stanchezza. È una pandemia che ci sta sfidando duramente, provoca rabbia, frustrazione. Sta anche creando disuguaglianze nuove che si aggiungono a quelle già esistenti. Ci sono fasce della popolazione più duramente colpite, persone meno tutelate, che non possono contare su uno stipendio, un'entrata fissa. E mi rendo conto anche dei nuovi sacrifici che stiamo chiedendo soprattutto ad alcune categorie. Penso ai ristoratori, ai proprietari, ai gestori di palestre, di piscine. Penso agli artisti, ai lavoratori del mondo dello spettacolo, ma anche ai commercianti e agli artigiani che stanno risentendo del calo delle vendite. Non mi piace fare promesse. Piuttosto preferisco prendere un impegno a nome dell'intero Governo. Sono già pronti l'indedizio a beneficio di tutti coloro che verranno penalizzati da queste nuove norme. E devo ringraziare in particolare, oltre che tutti i ministri, tutti i rappresentanti delle regioni, tutti coloro che hanno lavorato con noi, incontrato anche i capigruppo di maggioranza e opposizione, ma devo ringraziare in particolare i ministri Gualtieri e Patuanelli, perché nelle ore in cui lavoravamo per definire il piano delle nuove misure, loro ragionavano già sulle nuove somme da erogare, sui contributi da erogare a fondo perduto, lavorando con le medesime associazioni di categoria. E io stesso dedicherò questo pomeriggio per sentirli e rassicurarli. I ristori arriveranno direttamente sul conto corrente dei diretti interessati, con bonifico bancario attraverso l'Agenzia delle Entrate. Come sapete, è un sistema che abbiamo già usato, tra quelli sperimentati si è rivelato particolarmente rapido, particolarmente efficace. E in particolare, quindi, arriveranno nuovi contributi a fondo perduto, ci sarà un nuovo credito d'imposta per gli affitti commerciali per i mesi di ottobre e novembre, verrà cancellata la seconda rata IMU, dovuta entro il 16 dicembre, verrà confermata la cassa integrazione, verrà anche offerta una nuova indennità mensile, una tantum per gli stagionali del turismo, spettacolo, lavori intermittenti dello sport, e offriremo un'ulteriore mensilità del reddito di emergenza e misure di sostegno a favore della filiera agroalimentare, che risentirà ovviamente delle misure che impattano su bar e ristoranti. In questo modo, chi sarà costretto a sospendere o a rallentare le proprie attività a causa delle nuove norme potrà aggiovarsi di un sostegno economico che gli permetterà di affrontare le prossime settimane. L'Italia, proprio nei momenti più difficili, riesce sempre a dimostrare la propria coesione e la propria forza. Se in questo mese di novembre rispetteremo tutti queste nuove regole, riusciremo a tenere la curva epidemiologica sotto controllo. Riusciremo così poi ad allentare le misure e affrontare dicembre e ci auguriamo le festività natalizie con maggiore serenità. Ricordo anche che la Commissione europea ha stipulato vari contratti che prevedono già a dicembre l'arrivo delle nuove e delle prime dossi del vaccino. Se questi impegni contrattuali saranno confermati, potremo intervenire subito per distribuire i vaccini alle categorie sociali più fragili, agli operatori sanitari che sono più esposti al pericolo. L'Italia è un grande Paese. l'ha dimostrata ancora una volta la scorsa primavera, quando si è ritrovata ad affrontare la fase più acuta della prima ondata della pandemia. Ce l'abbiamo fatta allora. Ce la faremo anche adesso. Un Paese che è grande una volta è grande, deve essere grande sempre. Grazie. Partiamo adesso con le domande. Marco Conti del Messaggero. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Ed allora, ecco, abbiamo sentito il Premier Conte che ha illustrato i contenuti del nuovo DPCM, ribadendo che l'obiettivo è quello di tenere sotto controllo la curva epidemiologica, gestire la pandemia, scongiurare un secondo lockdown generalizzato, perché il Paese, ribadito Conte, non può più permetterlo. Grazie. 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 Grazie.